...dentro c'è la guida e tante cose delle gemigine. ...è un simbolo cristiano che rappresenta tutto il Brasile, il Redentore. ...dentro c'è il simbolo della gemigine. Qui abbiamo un cd con le musica della missa della giornata. Il Santo Padre sta nella capa del cd. Grazie. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie per la visione.